Buonasera ben rivisti al nostro appuntamento dell'intervista pre partita abbiamo i due posti 4 Elisabetta e Sara che sono state protagoniste nell'ultima uscita e vittoria di sabato scorso è lì MVP all'ultima partita prossima ancora partita molto complicata quali sono le tue sensazioni? Sono stata felice di aver dato una mano alla mia squadra la scorsa partita dato che la partita contro Meder non sono potuta rimanere in campo e per la partita di sabato ci vuole molta concentrazione ma siamo cariche e speriamo bene Sara? Il mio aspetto come la scorsa partita ad essere molto grintose perché questi tre punti ci servono ok da Gustavo è tutto mi raccomando accendete la campanella buona serata